Buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Canale 81 Lazio, vediamo le ultime notizie a partire da un'operazione antidroga della Polizia di Stato nel basso litorale romano perché coordinata da direzione di struttura antimafia ci sono stati numerosi arresti e sequestri, infatti dalle prime ore di stamattina la Polizia è impegnata in una vasta operazione antidroga che come detto è coordinata dalla DDA nei confronti di due gruppi criminali che operano nelle aree compresa tra Pomezia e Nettuno. Sono in corso di esecuzione numerose misure cautelari, personali e reali, tutti i dettagli avverranno appunto nei prossimi edizioni del telegiornale. Sempre a Nettuno beni mobili e mobili sono stati posti sotto sequestro dai finanziari del Comando Provinciale di Roma e in esecuzione appunto di un decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Capitorino nei confronti di un carrozziere pregiudicato appunto della città del Tridente per ricettazione, truffa, reati ambientali e porto abusivo di armi. Il provvedimento ha riguardato 18 autovetture fra le quali alcune di grossa cilindrata e d'epoca, un appartamento e tre terreni, una tante, sette polizze vite e le quote della società a cui è riconducibile l'attività di autocarrozzeria. A Roma è stata già una giornata iniziata con pesanti ritardi e cancellazioni dei treni, questo è accaduto sin dalle prime ore di questa mattina ai pendolari della Metro Mare che collega Ostia a Roma, i tempi d'attesa dei convogli sono arrivati oltre i 30 minuti, i pendolari al momento sono delusi e sul piede di guerra. Sempre nella capitale, la proposta di creare delle aule studio è arrivata dall'assessore alla cultura Michele Gotor ed è stata approvata in giunta di recente. Le aule studio verranno inserite nel sistema bibliotecario di Roma Capitale e permetteranno a studentesse e studenti romani di accedere a spazi pubblici anche di sera e nei giorni di festa. La rete sarà composta da spazi di Roma Capitale ma anche di soggetti terzi. A Sabato il sindaco Alberto Mosca ha deciso di prorogare le concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024. La misura è già stata sottoposta ai capigruppo del Consiglio Comunale della città che hanno condiviso la linea del primo cittadino chiedendo che nella prossima sise venga presentata un'apposita delibera per dare mandato al sindaco di formalizzare l'atto di indirizzo verso gli uffici dell'ente. Con questa notizia vi vediamo il telegiornale di Canelo 81 Lazio, grazie per averci seguito e vediamo appuntamento ai prossimi notiziari.